Onorevole, Gheddafi in Italia continua la sua lunga visita, ieri frasi molto pesanti contro gli Stati Uniti proprio alla vigilia del primo incontro tra Berlusconi e Barack Obama alla Casa Bianca, insomma forse si potrebbe gestire in maniera diversa questa visita, un po' più breve, un po' meno occasioni al leader libico? Beh Gheddafi è un personaggio piuttosto pittoresco e singolare che fa notizia di per sé, quindi poi le affermazioni di Gheddafi sono affermazioni di Gheddafi, non sono affermazioni del governo italiano, peraltro è singolare vedere molti a sinistra che si stracciano le vesti su queste affermazioni di Gheddafi quando sostanzialmente ha sostenuto quello che grossa parte della sinistra massimalista sosteneva nel periodo dell'attacco della guerra in Iraq, cioè che gli Stati Uniti e il terrorismo fossero da considerare due entità uguali e pari, come faceva parte dell'opposizione comunista che diceva che per loro Bin Laden e Bush pari erano, quindi insomma è singolare, noi possiamo stracciarci le vesti di fronte a queste affermazioni perché abbiamo sempre considerato gli Stati Uniti una forza mica democratica, invece c'è qualcuno in Italia che non ha avuto sempre la stessa opinione, quindi ora di fronte a queste parole Gheddafi nasce un teatrino singolare. Passiamo ad un altro tema sul quale monta la polemica, intercettazioni, ieri la Camera ha votato, ha dato il voto al testo, va al Senato e si moltiplicano gli appelli a almeno cambiare questa legge, dai giornalisti, dagli editori, dall'associazione dei magistrati, ci sono margini per cambiarla. Questa è una legge che ha avuto un percorso complesso, ragionato, anche intervallato da polemiche, è stato un progetto di legge, un disegno di legge che il governo ha varato, che ha avuto molte modifiche nel corso del suo iter in commissione alla Camera, che è passato ieri alla Camera con un voto segreto, con una maggioranza più ampia della maggioranza che sostiene attualmente il governo, ci sarà un passaggio al Senato, le Camere fanno il loro lavoro, quindi affrontano i provvedimenti nel merito, il Senato ha la facoltà di intervenire nel merito, di accettare il testo così come è arrivato dalla Camera, fa parte della dinamica parlamentare. C'è stato forse un eccesso di polemica anche strumentale su questo testo, che in realtà serve a correggere alcune distorsioni nell'uso delle intercettazioni. Tra dieci giorni tornata elettorale, ballottaggi e referendum, naturalmente voi vi impegnate sui ballottaggi, dall'accordo Bossi-Berlusconi molto meno sui referendum, come andrà a finire? Intanto c'è un impegno importante per i ballottaggi, perché è importante partecipare al voto nei ballottaggi e crediamo che questa tornata amministrativa, che già nella sua prima parte ha dato un segnale importante per il centro-destra, per la maggioranza, possa essere un'occasione per conquistare molte amministrazioni. Sul referendum c'è una sostanziale adesione di fondo al principio referendario e una libertà di comportamento per i nostri dirigenti e per i nostri lettori, alcuni dei quali sono stati promotori di questi quesiti referendari, altri li hanno condivisi meno, ma evidentemente c'è un dato di fatto che la spinta verso il sostanziale bipartitismo, per il rafforzamento del bipolarismo è stata già attivata nei fatti dalla creazione da un lato del PD e dal lato del PDL. Il PDL è un progetto che in questo momento è progetto di governo e quindi ha avuto una conferma da parte degli elettori anche in queste ultime elezioni, quello del PD è stato un po' più indebolito da quest'ultima tornata elettorale, ma noi crediamo che sostanzialmente si sia superato l'incaglio di questa legge elettorale che si è dimostrata con quest'ultime elezioni politiche del 2008, una legge elettorale che può funzionare quando c'è un leader come Berlusconi e quando c'è una maggioranza che ha i voti, diversamente non funzionava con un leader come Prodi e con una maggioranza che non aveva i voti per governare, quindi non era il problema della legge elettorale, era il problema di chi era candidato e di chi vinceva o perdeva le elezioni, quindi di fatto l'obiettivo del referendum si è raggiunto attraverso la politica, poi per noi è chiaro che c'è una libertà di coscienza, di voto e di impegno soprattutto su questo quesito. Bene, buon lavoro, buon caffè. Grazie a voi.